Ciao a tutti ragazzi, bentornati qua su Venetian TV, naturalmente Witch College 2, Revenge of Searchress. Allora ragazzi, come ben sapete il primo episodio di Witch College l'abbiamo giocato, abbiamo fatto con una mezzetta di prova ed era molto interessante. Questo nuovo episodio praticamente è sempre degli stessi sviluppatori, naturalmente la Cavorca Play, che abbiamo già visto in parecchi giochi naturalmente. Allora, cosa importante ragazzuoli? Intanto vi leggo un po' tutto per bene, vi leggo. Allora, aspettate eh. Il nuovo capitolo del mondo di Witch College? Il semestre è finito, le vacanze estive sono già iniziate, tuttavia prima che qualcuno potesse iniziare a divertirsi, Sam è improvvisamente scomparsa, lasciando dietro di sé solo uno strano simbolo. Cosa potrebbe significare? Sembra che sia coinvolto un potente e antico clan di streghe, ma cosa stanno progettando? E questa qui sarà la nuova, diciamo, storia, la nuova sinossi del gioco di Witch College 2. Caratteristiche principali, tre finali in base alla scelta del giocatore, commedia, venti scene, interazione di stile e romanzo visivo. Io personalmente ragazzi questo qua ve lo straconsiglio perché è veramente molto divertente. A Witch College lo trovate su Steam a 3,99€. Al momento, visto che ci sono i saldi, è 0,99€, quindi io già se fossi in voi lo prenderei a priori. Ok? Dai ragazzi, allora iniziamo. Grazie. 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 Grazie a tutti. 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 a tutti.